Allora, ci siamo? Ringrazio sempre l'ospitalità del mio amico sindaco di Sant'Alessio, Giovanni Foti, che oggi è in tante vesti qua, Giovanni Foti. Mi permetto, se ci accomodiamo, di cedere la parola a Nino Mineo, che è il nostro collega che viene da Palermo e quindi mi raccomando, trattiamolo bene anche con le domande che dobbiamo fare. Oggi l'argomento è nuovo, qualcuno mi dice che probabilmente stiamo ripetendo qualche argomento, le ripetizioni insomma giovano sempre, a qualcosa servono, mi permetto di dire, anzi si dovrebbero fare spesso, forse quotidianamente. Ovviamente in calendario noi abbiamo tante altre iniziative, una di queste già ve la posso anticipare, assieme all'Università di Messina stiamo preparando i nostri solidi partner qua con la commissione appositamente preseduta da Occhino e seguita dal delegato, il dottore Spadaro, stiamo cercando di organizzare un importantissimo evento che vedrà coinvolti anche soggetti istituzionali come in questo caso l'Università perché intendiamo parlare in tre ore, quattro ore, delle differenze che ci sono tra il cosiddetto default, il piano dell'equilibrio e lo facciamo anche a livello aperto diciamo a tutta la città di Messina. Ovviamente non vogliamo essere interessati nei discorsi che riguardano almeno il mio comune d'appartenenza anche perché in questo momento delicato non vogliamo interferire nelle scelte che l'amministrazione attiva e il Consiglio comunale intendono fare. Ma noi a livello accademico ci proponiamo di parlare al più presto, i primi giorni di dicembre nell'aula magna del rettorato, di poter parlare delle distinzioni, cosa comporta l'uno, cosa comporta l'altro. Ma a livello informativo anche per i semplici cittadini ovviamente abbiamo la necessità anche noi di diffondere determinate cose senza entrare nel merito delle scelte della nostra e neanche nelle scelte di tanti comuni che stanno vivendo anche loro momenti di difficoltà soprattutto nelle scelte che il più delle volte anziché fare delle scelte tecniche. Noi non siamo sicuramente per fare delle forzature in materia di bilancio quindi di presentare degli out-out, dei diktat, quindi non è questo sicuramente il modo come un sindaco può andare avanti nella gestione del bilancio e nella soluzione dei problemi del bilancio. Chiamare i creditori per dire di do il 50% e così di escludo dal piano di riequilibrio ma tu questi li prenderai in due rate e cosa fa? Secondo me non è un modo da rispettare né i creditori né la cittadinanza dei comuni che si presiedono come sindaco. Però sono scelte che appartengono alle persone, non tutti abbiamo lo stesso carattere, non tutti abbiamo la stessa visione e quindi senza entrare nel merito delle scelte politiche noi portiamo avanti la nostra. Dico noi non siamo soltanto impegnati a fare questo, a parlare di bilancio ma stiamo seguendo con particolare interesse tutto il comparto pubblico come ordine. insomma quanto prima riceveremo anche uno dei nostri relatori preferiti che è il dottore Stefano Kliniaschi che è consigliere di Stato, già magistrato della Corte dei Conti e nonché attuale segretario generale dell'autority per il diritto allo sciopero nei servizi pubblici. Quindi diciamo soggetti che affrontano argomenti nuovi, quindi non soltanto il bilancio ma quanto prima ci vedremo, speriamo anche in questo sito, per poter parlare di pubblici appalte, della normativa eccetera eccetera. Noi stiamo anche intervenendo in altri ambiti, ieri ho fatto riunione col procuratore della Repubblica proprio perché è intenzione nostra riprendere un discorso che già abbiamo affrontato il 12 febbraio di quest'anno e parlare del nuovo codice antimafia. Credo che i comuni siano particolarmente interessati al nuovo codice antimafia e soprattutto noi professionisti lo siamo ancora di più perché questo nuovo codice antimafia ci sta dando un riconoscimento, ci sta dando una vestizione completamente diversa rispetto al passato. Quindi noi siamo interessati a questo. Ora visto che l'aula si è quasi impegnato, è arrivato il pezzo grosso, il dottore Runci e allora darei la parola al collega Nino Mineo. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora buona giornata a tutti, intanto un saluto, un ringraziamento al dottore Spicuzza per le sue sempre forense e florida attività per quanto riguarda la formazione. Noi con molti ci vediamo per la seconda volta nel giro di poco tempo, ci siamo visti a fine settembre, se non vado errato Enrico giusto, e malgrado quello che ha detto il dottore Spicuzza un attimo fa, nel senso che gli argomenti sembrano che li ripetiamo, io vi dico che in questo lasso temporale, malgrado in quell'occasione ci siamo dedicati due giorni, il venerdì tutto il giorno e il sabato mattina, ho ricevuto da parte vostra diverse chiamate per approfondire ancora alcuni argomenti fondamentali. Ci proveremo, stavolta ho un minore spazio di tempo grazie al fatto che mi ha preceduta un autorevole, diciamo fonte di quello che è la dottrina, senza dubbio il dottore Libero, con cui mi ha fatto piacere perché ce ne vedevamo da un bel po' di tempo. Di che cosa vogliamo parlare? Prima faccio un'introduzione, io sapete che sono il responsabile, sono il presidente di Aspel Sicilia, Aspel è l'associazione dei servizi finanziari degli enti locali, è un'associazione nazionale, che oggi vi dà la possibilità a quanti volessero, mi attivate le slide per favore, a quanti volessero di aprirvi la newsletter giornaliera a titolo del tutto gratuito per un certo periodo di tempo, quindi vi invito a visitarci come sito Aspel e per quanti volessero di fornire i loro dati a quell'indirizzo mail che vedete, info.siciliachiocciolaspel.it, per avere accesso a tutto quello che è la newsletter giornaliera e settimanale. Aspel fa pure una rivista bimestrale che si chiama Management Locale, dove gli articoli sono di diversi autorevoli fonti nazionali, mi riferisco a magistrati di corte dei conti, a responsabili dei servizi finanziari di diversi comuni, a responsabili anche di altri servizi o settori di altri comuni per quanto riguarda normativo, argomenti specifici e così via. Non volendo levare altro tempo alla trattazione di oggi, diciamo che esordirei da dirvi che sia come revisori dei conti che come enti locali nella prossima finanziaria ci si aspetta un bel po' di aggiornamenti e cambiamenti che riguardano, almeno su quello che si anticipa, che riguardano sicuramente la semplificazione e soprattutto le nuove regole di utilizzo degli avanzi. Si sa che salteranno quelli che sono i monitoraggi per quanto riguarda il pareggio di bilancio e non vi voglio anticipare, sicuramente avremmo pure modo di parlare, una volta che la normativa diverrà definitiva, di poterci pure rincontrare magari in un evento formativo per parlare specificatamente di quello che arriverà. Di che cosa volevo comunque anticiparvi? Volevo anticiparvi l'argomento che riguarda il famoso utilizzo degli avanzi. Noi abbiamo avuto un'ultima circolare, la circolare 25 di ottobre della ragioneria generale dello Stato che in un certo senso che prende atto della sentenza della Corte Costituzionale che tenderebbe ad eliminare il famoso doppio binario, il doppio binario costituito dal 118 da un lato e dalla normativa correlata dall'altro lato, quindi in un certo senso quelle che sono le varie leggi di stabilità che di anno in anno entrano in vigore e a togliere essenzialmente quelli che sono gli attriti tra queste due normative essenzialmente il giudice costituzionale si orienta nel volere accettare a pieno titolo quello che è il Tuel, che oggi declinato tutti quelli che sono gli aggiornamenti del 118 quindi anche in termini di utilizzo di avanzi, di pareggio di bilancio si tende a fare riferimento a quelle che sono le regole del Tuel piuttosto che alle regole della normativa collegata che è quella della legge di stabilità sta cosa ne vedremo delle belle, oserei dirvi soprattutto vi ho detto per quanto riguarda l'utilizzo dell'avanzo se noi andiamo a vedere l'algoritmo del pareggio di bilancio laddove andiamo ad avere il pareggio tra i primi cinque titoli delle entrate e i tre titoli della spesa vediamo che l'avanzo sta fuori essenzialmente tutto questo essendo penalizzati i comuni che volessero applicare l'avanzo sta fuori nella parte delle entrate ma sta dentro per la spesa che l'avanzo stesso va a coprire quindi tutti i comuni che tendono ad applicare avanzo di amministrazione sono essenzialmente penalizzati nel rispetto della 243 famosa ma sicuramente potrebbero essenzialmente essere dentro quelle che sono le regole e gli equilibri di bilancio del Tuel vi ho detto che di questo avremmo modo anche in funzione del tempo che abbiamo poco tempo a disposizione oggi di approfondire meglio questo argomento di che cosa vorrei parlare anche se già il dottore Lipari ne ha fatto un'ampia dissertazione a seguito vi dico delle numerose richieste che ho avuto da parte vostra magari qualcuno che è pure qui in sala mi è stato chiesto di parlare in maniera più dettagliata di quello che è il fondo pluriannale vincolato che cosa è il fondo pluriannale vincolato essenzialmente e come funziona il prospetto di composizione per missioni del fondo pluriannale vincolato a rendiconto che cosa essenzialmente leggiamo in quel prospetto e su che cosa ci andiamo ad imbattere in quello che è la nostra realtà soprattutto quando parliamo di riaccertamento vi faccio un passo indietro due punti fondamentali due pietre miliari in tutto quello che è arrivato col 118 le pietre miliari sono uno che i principi contabili sono obbligatori e normativi a tutti gli effetti due il criterio dell'esigibilità in tutte le nostre operazioni non c'è anzi le eccezioni che ci sono all'applicazione del criterio di esigibilità sono essenzialmente normate quindi il criterio di esigibilità ci guida a tutti gli effetti senza alcuna deroga tranne quando è normativamente prevista l'eccezione stessa quindi in ogni analisi del fatto gestionale sappiamo perfettamente di guardare sempre l'esigibilità l'esigibilità sicuramente è la linea di indirizzo del responsabile dei servizi finanziari con tutta la sua struttura è la linea di indirizzo di tutto l'ente in tutte le sue strutture perché quando parliamo, diceva il dottore Ripare, di opere pubbliche non ci rivolgiamo solo ed esclusivamente al responsabile dei servizi finanziari ma chiamiamo in causa tutti coloro che gestiscono opere pubbliche e mi ripeto l'esigibilità sta al centro delle nostre discussioni senza alcuna deroga nel caso e naturalmente l'esigibilità riguarda i revisori quindi quando noi andiamo ad analizzare, a fare il nostro lavoro sicuramente dobbiamo approcciarci mettendo al centro del nostro argomento sempre nell'analisi del fatto gestionale quello che è l'esigibilità poco fa volevo farle ho detto anziché pigiare là dovrò dare questo allora il fondo pluriannale vincolato in parole povere cos'è? il fondo pluriannale vincolato è il traghettatore di esigibilità chiaro? prima del decreto legislativo 118 sappiamo perfettamente che un'operazione aveva il momento di registrazione con il momento di imputazione che coincidevano perfettamente da qui il fatto che andavamo ad adottare quelli che sono gli impegni tecnici soprattutto per le opere pubbliche con il 118 viene meno tutto quello che ho finito di dire e interviene l'esigibilità l'analisi del fatto gestionale va fatta in due momenti che verosimilmente possono coesistere quando parlo di due momenti che possono coesistere si intende dire dentro l'esercizio non sicuramente nello stesso istante i due momenti sono il momento della registrazione e il momento dell'effettiva imputazione l'effettiva imputazione che equivale all'accertamento e all'impegno definitivo è collegato strettamente all'esigibilità l'obbligazione deve essere certa, liquida ed esigibile quindi l'entrata deve essere certa, liquida ed esigibile la spesa deve essere certa, liquida ed esigibile per certa liquida ed esigibile ricordo a me stesso che significa che non possiamo opporre null'altro che quello di non avere soldi in tasca al nostro creditore se parliamo della spesa quindi non possiamo dirgli guarda che mi hai fornito un qualche cosa che non corrisponde a quanto ti ho ordinato perché già abbiamo superato quello che è la liquidazione l'operazione è l'obbligazione è certa, liquida ed esigibile quando non si può opporre nulla al creditore gli possiamo soltanto dire hai ragione ma non ho i soldi per pagarti quindi questo è il momento in cui l'operazione è esigibile alcuni ancora oggi confondono l'esigibilità con l'effettivo pagamento non l'ho pagato quindi non è esigibile, non è così non l'ho pagato, non è sicuramente un assioma non l'ho pagato perché non avevo la disponibilità liquida ma l'operazione, il credito è certo significa che nel nostro caso io posso annoverare tra i creditori e quindi tra i miei residui passivi quello che è il creditore stesso quindi il titolo di credito del creditore se l'obbligazione non è certa, liquida ed esigibile in nessun caso posso imputare e iscrivere a residui quindi vale sempre quella regola fondamentale perché per chiamare un residuo attivo ci deve essere un'obbligazione certa, liquida ed esigibile altrettanto per poter iscrivere un residuo passivo mancando questo elemento fondamentale io non posso imputare motivo per cui non posso impegnare al 31 dicembre non posso iscrivere il residuo al 31 dicembre quindi cosa avviene? tutto questo avviene che cosa? avviene o la re-imputazione attraverso il traghettatore che è il fondo pluriannale vincolato o la cancellazione definitiva dell'impegno o dell'accertamento quindi se è un'obbligazione diciamola così come esercitazione proprio dottrinale se è un'obbligazione non è certa, liquida ed esigibile non può stare tra i miei accertamenti se è entrata non può stare tra i miei impegni se è uscita chiaro? in nessun caso motivo per cui nell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui io come diceva giustamente il dottore Lipari Pocanzi non mi trovo più ad avere la possibilità di valutare se è un'obbligazione da cancellare o da mantenere ma ho la terza ipotesi che è molto significativa che è quella della re-imputazione ebbe a dire la volta precedente che noi abbiamo cambiato completamente la nostra visione riguardo alla gestione economico-finanziaria dell'ente perché siamo passati da una gestione retroprospettica ante il decreto legislativo 118 a una visione prospettica prima impegnavamo per quanto riguarda un'opera pubblica e non ce ne fregava oserei dire quasi nulla oggi dobbiamo analizzare l'operazione per la sua evoluzione come si evolve oggi andare ad esaminare un riaccertamento ordinario dei residui non è più un'operazione di poco conto prima bastava il foglio di carta che in molti comuni il foglio di carta è inteso la determina attenzione che molti comuni ahimè manco adottavano l'ha detto poco anzi pure il dottore Ripari e molti comuni in estensione non vorrebbero manco adottare loro ma ora nel senso che ormai non ci sono più abituati invece l'adozione delle determine per quanto riguarda il riaccertamento dei residui attivi e passivi diventa sicuramente un documento fondamentale e diventa un documento fondamentale anche che i revisori devono richiedere quindi per quanti svolgono attività di revisione vi suggerisco di bloccare quello che è il riaccertamento dei residui se il comune non viene tra virgolette educato all'emissione delle determine che ahimè non riguardano non ci stiamo rivolgendo come revisore al responsabile dei servizi finanziari perché anche il responsabile dei servizi finanziari in quel momento sta dalla nostra parte chiaro? quindi molte volte cosa avveniva in passato il responsabile dei servizi finanziari addirittura si sostituiva si determinava lui per tutte le entrate e le spese del comune sappiate che la determina il riaccertamento dei residui si accompagna a un atto di responsabilità da parte del soggetto che la va ad emettere quindi io non penso che oggi un responsabile dei servizi finanziari in maniera così accondiscendente vada a determinarsi per altri perché io come revisore tra l'altro manco lo accetterei questo tipo di determina se lui volesse in un certo senso accelerare quello che è il percorso perché le entrate e le spese sono nel momento di riaccertamento in capo al titolare nel momento dell'accertamento originario invece mi permetto di dire occorre l'intervento del responsabile finanziario perché un'entrata che venga accertata venga effettivamente valutata se io accerto se io accerto un'entrata da un trasferimento che in genere si accompagna con un decreto io responsabile dei servizi finanziari pretenderei il decreto sul mio tavolo perché nel decreto ci sta l'esigibilità sappiamo perfettamente per quanto riguarda i trasferimenti che secondo un altro aspetto fondamentale dell'armonizzazione noi andiamo essenzialmente a consolidarci come pubblica amministrazione quindi il momento di esigibilità in un trasferimento per l'ente che trasferisce deve corrispondere al momento di esigibilità dell'ente che riceve il trasferimento altrimenti va a sfalsarsi il sistema per quanto riguarda l'aspetto contabile quindi il momento di esigibilità tagliamo la testa al toro è l'esercizio non è l'attimo mi hai fatto la determina il 31 agosto anch'io mi devo fare l'entrata il 31 agosto assolutamente no sappiamo perfettamente che ci stiamo rivolgendo nell'anno quindi se la nostra regione va in un certo senso a registrarsi come a impegno un'uscita per trasferimento nel corso del 2018 io comune attraverso il decreto che loro emettono che deve e mi permetto di dire che nel tempo anche loro si stanno sicuramente allineando con lentezza perché sappiamo che l'armonizzazione l'hanno avviato i comuni l'hanno avviato i comuni l'hanno vissuto i comuni addirittura quelli in sperimentazione ancora prima di tutti gli altri la regione è arrivata anche dopo perché quando io devo contabilizzarmi un trasferimento in termini di imputazione quindi in termini di accertamento mi deve corrispondere l'epoca di accertamento con l'epoca dell'altro ente che mi trasferisce che per loro è un'epoca di impegno non ci mettiamo in mezzo quello che è il bilancio dello Stato perché è ancora un bilancio di cassa questa è una bella deformazione al sistema che non vogliamo manca ascoltarla noi per certi versi allora importante e fondamentale è sempre vi ripeto l'esigibilità quando c'è questa sfasatura temporale tra la registrazione di un'operazione noi la possiamo identificare nella famosa stipula del mutuo la stipula dell'atto di mutuo mi obbliga a registrare l'operazione per poter rispondere ad un altro principio un principio generale quello della veridicità del bilancio è anche quello di fornire un quadro fedele quindi io devo sapere che nel mio comune è stato stipulato un mutuo va al di là dell'erogazione effettiva del mutuo quindi io registro il mutuo l'erogazione del mutuo può avvenire in modalità diverse secondo se parliamo di un mutuo tradizionale o un mutuo flessibile oggi parliamo sicuramente di mutui flessibili la cui erogazione avviene un mutuo agganciato a un'opera pubblica avviene a stato di avanzamento quindi stati di avanzamento che sono protratti nel tempo all'emissione degli stati di avanzamento c'è l'erogazione del mutuo come vedete i momenti registrazione e accertamento attenzione io ho utilizzato il termine erogazione ma non per significare l'effettiva erogazione del cash l'erogazione collegata al momento in cui l'obbligazione è esigibile lo stato di avanzamento quindi l'emissione dello stato di avanzamento dà diritto e titolo di credito all'appaltatore che mi sta eseguendo l'opera mi dà titolo a me per chiedere la transce di mutuo ad esempio a cassa depositi e prestiti perché il mutuo è stato regolamentato come mutuo flessibile quindi in quel momento lo stato di avanzamento dell'opera costituisce, mi ripeto un titolo di credito per il creditore che mi sta eseguendo i lavori e un titolo per me per poter chiedere a cassa depositi e prestiti l'erogazione di quello che è il cash per pagare l'appaltatore quindi la data in cui viene messa la stato di avanzamento diventa momento di esigibilità chiaro, importante questo soprattutto quando noi in una situazione che comunque verosimilmente con la re-imputazione di esigibilità si complica che è quella di analizzare concretamente ogni fatto gestionale allora che significa analizzare concretamente ogni fatto gestionale intanto dobbiamo stare attenti tra virgolette tutti gli attori del processo perché magari chi l'attore che ha avviato questo processo non abbia sbagliato cioè non abbia inteso esigibile un qualcosa che effettivamente esigibile non c'è quindi chi interviene dopo effettivamente si trova a dover correggere quel modo di vedere che significa questo l'ufficio tecnico mi dà per esigibile un'operazione che nella sua effettiva lettura non è esigibile l'ufficio tecnico si determina io sono in obbligo a dover correggere quello che l'ufficio tecnico mi vuole essenzialmente impartire attenzione perché possono essere messe delle determine dove l'esigibilità non è intesa in quanto tale chiaro? quindi un'attenzione sempre al responsabile dei servizi finanziari ad analizzare l'esigibilità perché la determina di riaccertamento del collega se stiamo parlando del responsabile dei servizi finanziari o del responsabile dell'ufficio tecnico per i revisori non è diciamo da prendere tale e quale è sicuramente da vagliare e verificare o per il caso richiedere la rettifica a quella determina e non dire è stato determinato è così chiaro molte volte si arriva ad esempio ad avere delle reimputazioni di spesa e di entrata perché ci sono delle reimputazioni che sono correlate di entrate e di spesa che sono del tutto inesatte quindi un'attenzione la devono effettivamente adottare i revisori nell'analizzare quello che sono le determine di reimputazione per quanto riguarda l'utilizzo del fondo pluriannale vincolato un aspetto che lo si aveva prima e lo si accresce ora è quello che sia nelle reimputazioni che nelle cancellazioni di residui passivi è quello del vincolo della risorsa collegata al residuo cancellato al residuo reimputato motivo per cui quando noi revisori ci imbattiamo nel dover analizzare il riaccertamento dei residui dobbiamo fare una certa attenzione ai vincoli delle cancellazioni dei residui passivi quindi se si cancella un residuo passivo vado avanti io da un punto di vista proprio logico se si cancella un residuo passivo si genera un avanzo di amministrazione che avanzo di amministrazione vado a generare con la cancellazione del residuo passivo chiaro devo sapere devo sapere se sto andando a generare un avanzo libero o se sto andando a generare un avanzo vincolato con tutti i tipi di vincoli che ci stanno dietro perché i vincoli non è soltanto di un tipo dire vincolato e basta il vincolato quello per eccellenza potrebbe essere ad esempio l'eliminare un residuo passivo con risorsa che era un mutuo in quel caso naturalmente io ritorno al vincolo originario del mutuo ma ci potrebbe essere ad esempio la cancellazione di un impegno di spesa collegata a una fonte di finanziamento che è un famoso articolo 208 del codice della strada chiaro articolo 208 del codice della strada che mi concede la possibilità di effettuare impegni liberi ma mi dà pure l'obbligo di avere una quota vincolata e quindi alcuni impegni con l'accertamento di entrate del 208 sono correlati con vincoli quindi se io cancello un impegno diciamo correlato a una spesa finanziata dal 208 devo capire se riguarda la parte libera o riguarda la parte vincolata del 208 per non dire di tanti altri vincoli attenzione perché tutta la correlazione dei vincoli a parte che non è di facile individuazione in quelli che sono i sistemi contabili perché molti enti agganciano lo stanziamento l'accertamento la previsione di spesa e l'impegno di spesa con il vincolo ma ci sono tanti enti tanti enti che già lo stanziamento lo mettono come stanziamento libero la previsione la mettono come previsione libera e quindi poi bisogna andare a fare un'attività a ritroso per andare ad agganciare i vincoli perché ancora i sistemi contabili ancorché lo permettano non vengono utilizzati come tali quindi i revisori fanno uno sforzo notevole o dovrebbero fare uno sforzo notevole se non altro non dico a individuare i vincoli ma a leggere quello che l'ente trasmette come proposta di delibera di riaccertamento dei residui soprattutto per quanto riguarda il ripristino dei vincoli vincoli che ci troviamo pure in quello che sono le reimputazioni perché al pari del riaccertamento anche le reimputazioni nell'adozione dell'FPV naturalmente spostano quelli che sono la natura dei vincoli perché se mi sposto mi sposto nel senso che rinvio quello che è l'imputazione di un impegno di spesa ben ha detto il dottore Lipari la condizione necessaria qual è? che l'impegno sia stato assunto nell'esercizio in chiusura e che io al 31 dicembre devo necessariamente reimputare perché non ha maturato l'esigibilità ma anche lì io mi vado a spostare un impegno mi vado a spostare un impegno che magari è correlata un'entrata vincolata ad esempio e attenzione a una cosa perché negli anni a venire negli anni a venire io mi troverò impegni finanziati da risorse ma mi trovo pure impegni finanziati da FPV perché? perché la mia operazione originaria mettiamola così il mio impegno originario l'impegno padre o madre a secondo come lo chiama qualcuno risale a diversi anni fa è da lì che io necessariamente mi troverò ad andare a individuare la fonte di finanziamento che mi copriva l'impegno perché nell'esercizio N quell'impegno lo mi si dà come finanziato da FPV dottore Liberi mi sbaglio quindi nel momento in cui è finanziato da FPV devo andare a capire qual è la natura della risorsa che all'origine andava a coprire l'impegno non me la troverò in quell'esercizio non me la troverò nell'esercizio precedente devo andare indietro e credetemi se il comune non mi mette nelle condizioni anche documentali di poter eseguire questa cosa guardate che l'operazione di riaccertamento dei residui diventa veramente un labirinto per i revisori ma già lo è per i responsabili dei servizi finanziari qualora le operazioni non siano state eseguite bene non sottovalutare l'operazione di riaccertamento dei residui è un'operazione che è diventata alquanto delicata sia per il nuovo criterio quello della reimputazione sia per l'utilizzo dell'FPV con l'FPV io mi sposto nel tempo in anni addirittura quello che sono le imputazioni e me li sposto a staffetta di anno in anno non prendo un impegno oggi e lo proietto al 2020 per esempio con un vuoto nel 18 delle 19 e 20 l'impegno lo si sposta a staffetta quando noi andiamo a prendere il prospetto di composizione dell'FPV e io mi trovo nella prima colonna FPV al 31 dicembre dell'anno N-1 in quel dato ci stanno tutte le reimputazioni che riguardano quest'anno e tutte le reimputazioni che riguarderanno gli anni a venire quindi vi ho detto che il traghetto l'FPV va da porto in porto non salta i porti i porti nel nostro caso sono gli esercizi proviamo ad andare avanti di questo è un classico esempio di diciamo di visione dell'FPV l'abbiamo con molti vis non mi soffermo per anche in funzionale il tempo a disposizione ecco qua questo è il prospetto della composizione del fondo pluriannale vincolato al 31 dicembre al rendiconto prospetto obbligatorio tra gli allegati al rendiconto quindi l'ente nel momento in cui propone il rendiconto arriva il revisore la proposta di rendiconto questo è un prospetto obbligatorio mancando questo prospetto prendete tutti i documenti e li restituite al lente che cosa ha questo prospetto la prima colonna è FPV al 31 dicembre dell'anno N-1 naturalmente la prima regola per i revisori è controllare che l'importo dell'FPV al 31 dicembre dell'anno N-1 corrisponda all'importo dell'FPV al primo gennaio dell'anno in cui siamo questo è il 31 dicembre questo è il primo gennaio se lo leggiamo diciamo in maniera scorrevole nel tempo la seconda colonna che cosa ha spese impegnate negli esercizi precedenti è imputata all'esercizio 2018 coperta da FPV quindi queste cosa sono sono tutte le spese impegnate in esercizi precedenti e che hanno come reimputazione l'esercizio in cui noi siamo chiaro quindi non quelle che hanno come reimputazione altri esercizi ma quelle che hanno come reimputazione l'esercizio in cui siamo ricordiamoci una cosa qua siamo a rendiconto a rendiconto significa che quanto indicato in questa colonna ha maturato effettiva esigibilità motivo per cui sta qui dentro qualora quindi non è un dato diciamo di prospettiva è un dato consolidato si nell'anno perché questo è il prospetto dell'FPV a rendiconto quindi è quanto come importo hanno rilasciato di esegibilità i nostri impegni o i nostri diciamo le nostre reimputazione perché chiariamo una cosa la reimputazione riguarda essenzialmente gli impegni ma può riguardare le entrate attenzione quando vengono reimputate entrate chiaro perché la reimputazione di entrate richiede anche qui una analisi approfondita da parte sia del responsabile servizi finanziari sia dei revisori perché per quanto riguarda la reimputazione delle entrate non tutti gli uffici tecnici hanno chiaro dico gli uffici tecnici per utilizzarli come nostro capo espiatorio però non tutti hanno chiaro che significa reimputare l'entrata è più facile assorbire concettualmente la reimputazione delle spese è più difficile diciamo percepire quello che è la reimputazione dell'entrata chiaro queste sono quello che vi dico io sono fatti diciamo che avvengono nella quotidianità mi permetto di dire quindi attenzione alla reimputazione dell'entrata nel caso ad esempio di un mutuo flessibile naturalmente lì c'è il caso della reimputazione dell'entrata e della spesa entrate e spese che reimputandosi per lo stesso importo si diciamo si neutralizzano nel prospetto dell'FPV perché essenzialmente come saldo al 31 dicembre lo vanno a neutralizzare chiaro quindi noi abbiamo un FPV oserei dire riepelogativo che tiene conto della situazione dell'ente che è quello che vediamo rappresentato in questo prospetto poi possiamo dire che abbiamo un FPV di entrata e un FPV di spesa quindi se noi andiamo a reimputare entrate e spese naturalmente essendo reimputazioni circa quasi dello stesso importo essenzialmente reimputiamo per lo stesso importo su quello che vi ho detto prima nella reimputazione dei mutui abbiamo un FPV che come importo si neutralizza e sembrerebbe non evidenziarsi in questo prospetto però se scendiamo in dettaglio e chiediamo all'ente quanto abbiamo reimputato di entrate e quando abbiamo reimputato di spesa attraverso la differenza algebrica di quelle reimputazioni vediamo anche il dato al 31 dicembre di questo prospetto chiaro la terza colonna cioè scusate anzi la quarta no no la terza scusate riaccertamento degli impegni di cui alla lettera B effettuata nel corso dell'esercizio 2018 cosiddette economie di impegno è proprio proprio quello che dicevo poc'anzi sono le economie di impegno che hanno necessità di essere collegate alla risorsa che li finanzia per andarne a determinarne il vincolo qualora lo abbiano chiaro e per quello che vi ho detto prima non è che il vincolo lo troviamo diciamo nell'accertamento dell'anno il vincolo lo andiamo a cercare nell'accertamento che ha originato quell'impegno chiaro perché sappiamo e facciamo un passaggio ad una puntata precedente che l'FPV nasce essenzialmente per la gestione di spese del titolo secondo è soltanto un'eccezione al principio l'utilizzo dell'FPV per quanto concerne le spese del titolo primo dico eccezione al principio anche se eccezione al principio non lo è in che senso perché il principio si regola sull'esegibilità qualora una spesa del titolo primo debba essere reimputata non è l'eccezione è proprio il principio stesso che vuole la reimputazione della spesa corrente dove sta il fatto che la casistica di reimputazione di spesa corrente è talmente marginale è talmente diciamo che apre a delle responsabilità perché intanto perché nel momento in cui io al 31 dicembre mi trovo movimentato un FPV di spesa corrente che naturalmente in uscita che mi va a finanziare il bilancio dell'anno successivo in entrata il primo dato del bilancio del bilancio di un ente riguarda l'utilizzo scusate riguarda l'FPV di parte corrente e l'FPV di parte capitale è facile per chi legge buttare l'occhio sull'FPV di parte corrente e andare a dire di che cosa si tratta chiaro perché la casistica dell'FPV di parte corrente è limitata sono da evitare l'ha detto benissimo poco anzi il dottore Lipari io non mi sto ripetendo è soltanto un rimandarvi a quello sono da attenzione l'ente non può assumere impegni per acquisto di beni che non avranno utilità nell'esercizio in corso chiaro quindi quando gli acquisto abbiamo detto anche precedente nella puntata precedente se io al 20 dicembre acquisto cancelleria e so che la cancelleria dall'ordine mi deve essere consegnata entro domani o entro il 31 vuol dire che l'esercizio in chiusura trova utilità questo per gli aziendali che ci sono qua in aula giusto? e lo apprendiamo meglio questo concetto quindi rilascia l'utilità anche se poi aziendalmente io potrei utilizzarmi col criterio delle rimanenze lo spostamento in altri anni ma qui fermiamoci qua altrimenti ci perdiamo quindi se io acquisto qualunque bene o servizio che mi deve essere consegnato nell'anno io posso assumere l'impegno nell'anno e per fatti verificatosi successivamente all'ordine successivamente all'ordine l'ordine naturalmente mi dà titolo e dovere di impegnare la 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 somma per fatti verificati successivamente io posso spostare l'esigibilità di quell'operazione quando ho sposto l'esigibilità sto toccando l'FPV di parte corrente quindi il revisore ha diritto di dirmi che cos'è e se il revisore vuole mi dice vammi a prendere gli atti per vedere se non è elusivo perché da dove potrebbe essere elusivo ho disponibilità quest'anno nel temere che la stessa disponibilità quest'anno non la possa avere negli anni successivi la carta me la compro quest'anno tra virgolette in sintesi quindi l'utilizzo dell'FPV di parte corrente è delicato per questo motivo nell'acquisto di beni e servizi per quanto riguarda il contratto integrativo decentrato è dirimente il famoso discorso della sottoscrizione alcuni enti alcuni enti la mettono nell'FPV ma dov'è il contratto firmato non c'è il contratto firmato guarda onde evitare che la corte dei conti domani è ritroso chiede a te ma chiede pure a me vai a levare vai a levare sicuramente l'impegno utilizzando l'FPV e te lo vai a mettere in avanzo chiaro perché l'alternativa naturalmente una somma che non viene reimputata anziché trovarsi in FPV si trova nella parte bassa del risultato di amministrazione si trova nelle quote dell'avanzo nel caso di specie si trova nell'avanzo vincolato scome qualcuno teme che poi l'avanzo vincolato per varie ragioni non lo possa utilizzare da subito inteso il primo gennaio il due gennaio perché magari a gennaio c'è stata la sottoscrizione del contratto decentrato quindi sottoscrivo il contratto decentrato con la prima possibilità di pagamento visto che andò in FPV me lo pago subito se invece anziché di andare in FPV fosse andato in avanzo vincolato così come giusto era perché il contratto decentrato me lo sono sottoscritto a gennaio e non a dicembre poi ancorché naturalmente applicabile l'avanzo vincolato l'applicazione dell'avanzo risponde a dei criteri o a degli adempimenti che sicuramente non sono adempimenti di facile consecutività cioè nel senso che alla prima diciamo finestra di stipendio gli vado a dare i soldi chiaro ad esempio qualche ente mi ha detto ma noi possiamo diciamo applicare l'avanzo vincolato in assenza di bilancio di previsione sappiamo che l'avanzo vincolato si può applicare anche senza in esercizio provvisorio l'ha detto il dottore Lipari prima ma per applicarlo in esercizio provvisorio sicuramente ci deve essere il fatto di la prosecuzione di un'opera pubblica chiaro costituisce valido motivo perché io applico l'avanzo vincolato prima dell'approvazione del rendiconto ma non è sicuramente un valido motivo quello di andare a pagare ai dipendenti quello che potrebbero essere gli emolumenti dettati dalla contrattazione decentrata prima dell'approvazione del rendiconto qualcuno magari non dico ci prova magari fa pure in buona fede dico per carità visto che è in avanzo vincolato e che si può applicare dice allora nell'amore di andare ad approvare il rendiconto so che si può so che si può applicare vattelo a vedere bene perché in quel caso uno lo può sicuramente applicare andiamo nuovamente la quarta colonna naturalmente mi dà la quota di fondo pluriannale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio rinviata all'esercizio 2019 e successivi cioè in altre parole dalla prima alla quarta colonna o tutto quello che è avvenuto sino ad ora di fatti la quarta colonna è la differenza la somma algebrica quindi la differenza comunque tra la prima meno la seconda meno la terza e basta va bene quindi questo è quello che è avvenuto con un FPV che mi è stato ereditato dal passato quindi dell'FPV che io ho ereditato al primo gennaio cioè la prima FPV al 31 dicembre dell'anno precedente che qui potrei leggere come FPV al primo gennaio del 2018 di tutto quello che io ho ereditato dal passato come l'ho diciamo utilizzato nel corso del 2018 ma accanto a quello che io rimanendome al 31 dicembre rinvio agli esercizi successivi io naturalmente avrò pure generato FPV nell'esercizio in corso quindi avrò avuto pure accertamenti da reimputare e impegni da reimputare che naturalmente si vanno a sommare nella quarta colonna quindi qua ci sono tutti gli impegni che sono o gli accertamenti che si sono generati quest'anno da reimputare negli esercizi successivi tutto questo qualora voi lo vogliate vedere lo si ottiene solo attraverso della stampa di tutti quelli che sono gli impegni di competenza reimputati gli accertamenti di competenza reimputati gli impegni da residui reimputati gli accertamenti da residui reimputati e così via cioè l'ente vi stamperà revisori colleghi vi stamperà almeno sei tabulati laddove andare a leggere tutto quello che riguarda che si collega al riaccertamento con quelle che sono le reimputazioni in questa colonna abbiamo le spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione nel 2019 quindi quelle che noi andiamo a impegnare o perlomeno quelle che abbiamo il cui impegno è stato previsto come reimputazione nel 2019 qui abbiamo quelle il cui impegno è stato previsto nel 2020 e qui abbiamo quelle il cui impegno è stato previsto in annualità successive al 2020 un'opera pubblica che si sviluppa in sette anni naturalmente non abbiamo un doppio foglio di questo ma abbiamo una visione triennale tutto quello che va al di là del bilancio lo riepiloghiamo nell'ultima colonna alla fine abbiamo FPV al 31-12-2018 dato da quanto è rimasto degli anni precedenti al 31-18 e quanto se ne è generato nel 2018 da reimputare agli anni successivi mi ripeto questo è un dato che considera neutralizzando quelli che sono le reimputazioni di entrata con le reimputazioni di spesa alla fine il nostro FPV al 31-12-2018 è un FPV di spesa va bene è un FPV di spesa come saldo che si riporta tale e quale nel bilancio di previsione dell'anno successivo in entrata con vi ho detto la prima indicazione del bilancio di previsione indica FPV di parte corrente FPV di parte capitale il nostro importo naturalmente va a sua volta suddiviso in FPV di parte corrente e FPV di parte capitale va bene l'FPV al primo gennaio è a tutti gli effetti ai fini del pareggio di bilancio considerata un'entrata perché mi va a finanziare quello che è la spesa a tal proposito in quello che sono i singoli capitoli di spesa i singoli capitoli di spesa io mi troverò per ogni capitolo l'importo che è finanziato da FPV il famoso previsione di entrata impegni di cui FPV chiaro cioè dello stanziamento di spesa iniziale e successivamente degli impegni dell'anno avrò di cui finanziati da FPV cioè sono quegli impegni che non sono state finanziate da risorse di competenza di quell'anno ma sono state finanziate da quelle due indicazioni che abbiamo detto prima che nella parte entrata mi identificano FPV di parte corrente in entrata al primo gennaio FPV di parte capitale in entrata al primo gennaio stesso chiaro quindi tutti i capitoli di spesa avranno una di cui FPV cioè significa che è l'impegno che per competenza va imputato a quell'anno ma che è stato finanziato da un FPV cioè dal correlato FPV vi ho detto prima e ve lo richiamo alla fine per porvi sempre quell'attenzione attenzione a quelle che sono correlazioni di entrata di spesa sia nell'FPV sia nel riaccertamento per quanto concerne i vincoli quanto mi sono mangiato come tempo 12 e mezzo dove troviamo spero che e mi auguro anzi per molti di voi non dico per tutti perché non ho la pretesa di farlo per tutti ma spero che per molti di voi questo chiarimento abbia aiutato un poco a capire diversi aspetti dell'FPV o perlomeno delle carte tra virgolette che in qualità di revisori l'ente ci pone all'attenzione in quello che è il riaccertamento prima e il rendiconto dopo dove è che noi incontriamo l'FPV in termini proprio di adempimento sicuramente l'FPV lo incontriamo vi ho detto nel riaccertamento ordinario lo incontriamo perché è generato alla spesa in conto capitale direi come ho detto prima che l'FPV nasce dalla reimputazione della spesa in conto capitale lo incontriamo in via del tutto marginale in quelle che sono le spese corrente ci imbattiamo all'FPV quando parliamo di avanzo quando parliamo di entrate vincolate già un accenno l'abbiamo fatto quando trattiamo le economie riguardante le spese personale ve l'ho detto pure prima lo troviamo soprattutto per quanto quello che è la reimputazione del contratto decentrato quindi degli effetti economici del contratto decentrato ancorché sia stato sottoscritto entro il 31 dicembre e ce lo troviamo anche per quanto riguarda la reimputazione delle spese legali spese legali che hanno tutto un aspetto diciamo particolare ma prima di analizzare seppure velocemente questi aspetti volevo ritornare così un altro argomento che mi è stato evidenziato per ricordarlo che riguarda i famosi accantonamenti e senza ripeto senza volermi sostituire all'autorevole dissertazione dottorolipari volevo soltanto riparlare del contenzioso del fondo rischi contenzioso bene ha detto il dottorolipari il fondo rischi contenzioso non è un fondo di riserva del contenzioso perché il fondo rischi di contenzioso si abbina e va a sommarsi per singole posizioni di contenzioso quindi io alla fine ho un importo ma quell'importo è dato dalle probabilità di soccombenza delle singole cause chiaro non posso utilizzare quell'importo come fondo di riserva alcuni ad esempio lo utilizzano per copertura di debiti fuori bilancio diciamo vabbè c'è un fondo di riserva debiti fuori bilancio debiti fuori bilancio no perché perché sono debiti fuori bilancio da sentenze quindi siccome io ho le sentenze e ho il fondo rischi contenzioso me lo sto utilizzando scusa vogliamo vedere tutte le cause come si chiamavano con nome e cognome c'è scritto Matteo Antonio Giuseppe e tu ti stai pagando Mario non è così non ti puoi pagare Mario perché per quella soccombenza di giudizio quindi per quel riconoscimento di debito fuori bilancio Mario non fa parte del fondo rischi contenzioso non è l'importo che è dentro il totale e qui li prendo quei soldi quindi il contenzioso va seguito posizione per posizione colleghi revisori non vi fate dare lettere di sintesi e comunicazione di sintesi fondo rischi contenzioso 200.000 euro uno 200.000 euro non si rapporta a nulla chiaro può darsi che sia elevatissimo può darsi che non significhi niente a cospetto del contenzioso che l'ente ha ma a dir più a dir più non è manco specificato nelle posizioni di contenzioso quindi io come revisore devo pretendere che l'ente mi fornisca un elenco delle posizioni e sulle singole posizioni venga determinato la rilevante probabilità di soccombenza sulla singola posizione quindi se la posizione e tutte le posizioni sono affidate all'avvocatura che l'avvocatura mi può pure fare un prospetto diciamo complessivo mi ci mette una bella firma di congruità per me va bene se le posizioni sono affidate a tutti i legali fate voi come volete organizzare o chiedete le congruità che poi non dovete manco chiedere voi a tutti i legali esterni oppure chiedete al responsabile del settore normalmente affari generale che comunque alla fine alla fine vi va a certificare almeno ad attestare la congruità dell'accantonamento a fondo il rischio di contenzioso perché soltanto dall'evoluzione o perché il rischio aumenta o perché il rischio diminuisce perché attenzione il rischio di contenzioso sulla singola posizione può pure diminuire nel tempo chiaro siamo partiti con una rilevante probabilità di soccombenza nel corso della causa l'avvocato mi dice che si è ribaltato tutto e il giudice si proietta a chiudere ad esempio a nostro favore o ridimensionando la pretesa creditoria di controparte il rischio di contenzioso diminuisce e naturalmente io in sede di rendiconto posso ridurre l'accantonamento per quel singolo contenzioso chiaro quindi il rischio di soccombenza va valutato non in capo all'ente ma in capo alle singole posizioni di contenzioso ve ne racconto una ultima ma scusate ma questo contenzioso succedono anche queste cose ma questo contenzioso è l'unico elenco di contenzioso che è all'ente ci possono essere contenziosi che non sono qui si sa il revisore ci sono i contenziosi ma siccome sono di anni precedenti di tutti quelli che vede qua non c'era nessuno e ogni tanto arriva qualche sentenza negativa ah no scusate no perché voi voi ad ogni modo ancorché ancorché non vi siete costituiti giusto molti comuni non si costituiscono sapete per quale motivo per mancanza di possibilità di chiamarsi un avvocato molti comuni non si costituiscono o perché non vi siete costituiti o perché vi siete costituiti avete dato incarico in anni precedenti allegali che non si sono mai più fatti sentire o attraverso amministratori come lo si dava prima e genere l'incarico allegali di cui si è perso traccia ad esempio voi avete sicuramente il diritto obbligo se non altro di recarvi presso quelle sedi giudiziarie in genere il foro di competenza è quello del chiamato in causa quindi che comune sei comune di Enna te ne vai al tribunale di Enna dal giudice del lavoro di Enna te ne vai in quelle sedi giudiziarie e chiedi quali sono i contenziosi dove controparte si chiama comune di Enna puoi fare un'attività di tipo amministrativa la fai con illegale dico per carità ti pigli un legale e gli dici senti ma possiamo andare a farci idea del tipo di contenziosi che abbiamo perché tanto lo seguiamo ma non abbiamo contezza che è quello che seguiamo è tutto come si fa me ne vado nelle sedi legale e mi faccio dare tutti i ruoli dove sono iscritti contenziosi che hanno come controparte il comune di Enna così chiamo in causa uno che è qua è giusto quindi a quel punto a quel punto io posso vagliare certo cosa avviene avviene che il comune ti manda l'atto che tu devi citare subito sul rischio di contenzioso e appena gli pone la domanda ma è l'ultimo non lo sappiamo ma i tempi non è che l'abbiamo perché se andiamo a chiedere poi chissà in quanto tempo ci vuole che fa non facciamo niente allora colleghi revisori in termini collaborativi andate a istruire l'ente in questo senso istruire perché dal lente c'è solo da imparare vi dico questo dove andate a dire guarda rischio contenzioso guarda siamo al primo gennaio vatti a chiedere hai tempo tutto l'anno vatti a chiedere quanto è il tuo contenzioso sei tranquillo tu sono tranquillo io ed eviti che un domani ti arriva una bella notifica di sentenza dici per indennità di esproprio di vent'anni fa e tu non hai completamente cognizione chiaro perché sappiamo perfettamente il danno che può provocare l'avere notificata una certa sentenza che non ha più copertura per chiudere col fondo rischi contenzioso vi ricordo vi ricordo che il nuovo contenzioso il nuovo contenzioso quello nato prima del bilancio di previsione questo è il nuovo contenzioso la quantificazione della rilevante probabilità di soccombenza deve trovare copertura nell'esercizio chiaro senza possibilità alcuna di rinvio in esercizi successivi quindi il nuovo contenzioso noi siamo entrati in armonizzazione quando abbiamo fatto il riacertamento quando abbiamo fatto il nostro primo bilancio armonizzato si faceva un distingo tra il contenzioso ante 2014 e il contenzioso post 2014 quindi da ora in poi vi dico che il nuovo contenzioso è sicuramente post 2014 e per il nuovo contenzioso determinata la probabilità di soccombenza in termine di quantum deve essere accantonata nel bilancio di previsione costituendo nel bilancio di previsione quota di accantonamento al pari dell'FCDE di competenza al pari dell'eventuale ripiano del disavanzo dal riaccertamento straordinario per diciamo tecnicismo non lo chiamiamo disavanzo tecnico non è questo il disavanzo tecnico molte volte dice quello è il disavanzo tecnico no il disavanzo tecnico è un disavanzo dalle reimputazioni con utilizzo di FPV nulla a che vedere almeno da un punto di vista lessicale dico poi alla fine non lo chiamiamo tecnico non lo chiamiamo in altro modo poco importa sempre un disavanzo è però vi dico che il ripiano trentennale il famoso ripiano rata di ripiano trentennale non è ripiano da disavanzo tecnico ma è ripiano da riaccertamento straordinario chiaro? il terzo disavanzo è quel disavanzo di competenza è quel disavanzo di competenza laddove in molti comuni ci si imbarca che non è altro che il risultato di amministrazione decurtato delle quote vincolate delle quote accantonate e delle quote destinate vi dà diciamo come somma algebrica col segno negativo il quota libera che se col segno negativo si chiama disavanzo di competenza disavanzo di amministrazione parte libera negativo chiamatela come volete attenzione a questa parte libera negativa la parte libera negativa vi rimanda direttamente all'articolo 188 del Tuel articolo 188 del Tuel che necessariamente ci richiama a dei richiami notevoli quali sono i richiami notevoli allora nel momento in cui si ha disavanzo bisogna darne immediata copertura l'immediata copertura può essere data per un lasso temporale non superiore a tre anni a partire dall'esercizio in corso quindi un disavanzo che io rilevo nel 2018 lo posso coprire in tre anni 2018 2019 2020 attenzione ad alcuni aspetti fondamentali soprattutto all'articolo 188 comma 1 quater giusto nell'emore delle variazioni di bilancio che naturalmente se il bilancio è fatto significa nell'emore che ti approvo un altro bilancio perché c'è gente che magari arriva al 30 novembre con rendiconto e dice guarda io il rendiconto lo sto diciamo adottando in questo momento lo sto provando in questo momento dal rendiconto rilevo il disavanzo cosa faccio con quel disavanzo rilevato e cosa fai ormai non possiamo fare niente faccio Natale e me lo faccio lo stesso no nell'emore delle variazioni di bilancio circa quasi dice questo a me amore non ce l'ho comunque così puoi sostenere soltanto spese obbligatorie quindi non è che ci va bene il bilancio lo faremo l'anno prossimo sicuramente ce lo faremo a novembre pure dell'anno prossimo facciamo così guarda che nell'emore rientri nel vincolo assoluto nel divieto assoluto di andare a effettuare impegni che non siano per spese obbligatorie e se la rata di disavanzo un terzo è notevole è notevole guardati pure il 244 del tuel chiaro perché con tutte serrate che tu devi andare a mettere nella parte spesa del bilancio di previsione rischi di non poter assolvere i famosi servizi il termine lo diciamo no non è il caso di dirlo è giusto articolo 244 del tuel chi non lo sappia se lo vado a vedere risanamento finanziario in senso lato tanto come diceva il dottore Lipari sicuro se non ci saranno più ora arriveranno nuove regole essenzialmente quindi attenzione a questi passaggi il disavanzo di qualunque sia l'importo vi mette già nelle condizioni del 188 comma 1 quater giusto sì perfetto del tuel e poi quando si ha l'effettivo ripiano vi pone l'attenzione al 244 dico purtroppo ahimè diversi comuni sono in questa situazione e si apre tutta l'argomentazione disavanzo alla politica che vuole che chiede e così via no abbiamo sbagliato i calcoli nei fondi vediamo dove abbiamo sbagliato i calcoli nei fondi perché lo sapete cosa avviene avviene che dopo che vi portano il rendiconto è il revisore che gli fa uscire il disavanzo figuratevi il revisore gli fa uscire il disavanzo il comune ancora non sa se è in disavanzo il revisore si rende conto che il comune non ha appostato i famosi accantonamenti e appostando il revisore la responsabilità del revisore dico senza nulla togliere alle buone pratiche perché sicuramente vi ho detto e ne sono fermamente convinto che dai comuni c'è solo da imparare però purtroppo ci sono dei comuni che sottovalutano gli accantonamenti e se andiamo ad affondare anche sui vincoli ad esempio troviamo anche lì situazioni di vincoli che non vengono ripristinati per certi versi chiaro perché in tutto quello che abbiamo detto prima delle famose reimputazioni guardate che qualche vincolo salta chiaro o perlomeno è facile che qualche vincolo salta se ha detto sì lui vi posso garantire che allora è così a che siamo presidente spero che questa dissertazione possa essere utile alla platella vediamo alcuni aspetti che possiamo questa è la famosa slide quella del traghetto presidente visto che siamo sempre qua il residuo passivo cancellato e reimputato porta con sé la copertura finanziaria che l'impegno aveva nell'esercizio in cui era stato inizialmente imputato utilizzando il traghettatore di esigibilità chiaro qua abbiamo il nostro FPV che sposta l'esigibilità da un esercizio ad un altro guardate che in senso proprio storico l'FPV racchiude soltanto ex residui chiaro quelli che prima dell'avvento del 118 si chiamavano residui sono e che oggi vengono reimputati appunto vi dico che tutto l'FPV tutto quel prospetto letto ante 118 rientravano nell'alveo dei residui erano tutti impegni che venivano impegno accertamenti che si chiudevano in un esercizio senza più spostarsi avanti essenzialmente molte volte sappiamo perfettamente che avveniva che un impegno mi rimaneva residui e a distanza di anni o se ne perdeva cognizione o poi magari spuntava che si sto pagando un residuo del 2008 chiaro dico sempre è come logico che sia è come avete già visto è naturalmente un'ovvietà quella che dico non è che la gestione dei residui c'è impegnare il residuo esiste cioè attenzione non è che impegnare il residuo è diventato fuori legge l'impegno che io mi vado a fare nell'anno e che mi rimane il residuo tutti gli effetti esiste l'FPV mi depura quelli che non hanno esigibilità in quell'anno per quanto riguarda i lavori pubblici l'FPV nei lavori pubblici l'esigibilità nei lavori pubblici non mi ci soffermo perché ho sentito che l'ha fatto benissimo il dottore Lipari per quanto riguarda i bandi pubblicati non pubblicati diversamente dalla pubblicazione dei bandi in estrema sintesi seppur accertata l'entrata non posso effettuare l'impegno non posso reimputare l'impegno ma l'impegno va cancellato motivo per cui si forma l'avanzo l'avanzo è un avanzo vincolato e viene gestito secondo le regole di utilizzo dell'avanzo vincolato attenzione al ribassio alle economie delle gare chiaro? perché ci sono dei casi in cui l'economia della gara viene reimmessa nel quadro economico naturalmente prima del collaudo della gara e continua a gestire la gara ma ci sono dei casi in cui si chiude l'opera e quelle economie va rigettata nell'avanzo vincolato chiaro? non rimane più dentro quell'opera pubblica economia o ribassi d'asta l'economia vengono in fase di esecuzione dell'opera ma ci possono essere anche i ribassi d'asta per quanto riguarda la spesa per incarichi a legali esterni ricordo sempre di presentare nell'incarico del legale uno di far annotare l'obbligo di rendicontare ogni anno sulla rilevante probabilità di soccombenza di cui al decreto legislativo 118 il principio del 4 barra 2 perché se l'avvocato esterno ogni qualvolta mi deve comunicare la rilevante probabilità di soccombenza perché non posso andare avanti io ente non può andare avanti il revisore non possiamo chiudere il rendiconto blocca tutti mettetegli nel contratto mettetegli nel contratto questo obbligo ad adempiere in modo tale che ce l'ha da contratto non per il fatto che lo dobbiamo chiamare quando è spiaggia e si deve sentire pure infastidito normalmente chiaro mettetegli nel evidenziati di mettere nell'incarico all'avvocato esterno che ogni anno deve comunicare in termini di importo la rilevante probabilità di soccombenza per quella causa che gestisce e che non è una cortesia che ci fa vorrei parlare del fondo credit ma parliamo del fondo credit parliamo del fondo credit tanti di voi già sanno del fondo credit almeno di quello che abbiamo presentato le volte precedenti però tanti altri tanti altri no il fondo credit di dubbi e difficili di esigibilità è sicuramente se andiamo a vedere tutti quelli che sono la composizione degli avanzi del risultato di amministrazione scusate del risultato di amministrazione di un comune almeno nell'importo una quota altamente significativa a rendiconto a cosa serve il fondo credit il fondo credit di dubbi e difficili di esigibilità è una manovra finanziaria su misura per l'ente l'ente diventa artefice di quello che diciamo la sua crescita o la sua involuzione ente sei bravo a riscuotere avrai tendenzialmente un fondo credit di dubbi e difficili di esigibilità che si riduce fino naturalmente magari ad annullarsi ovviamente non esiste manco nel comune più virtuoso in Italia per definizione giusto ente non ti preoccupi della riscossione qui parliamo di riscossione non di esigibilità qui parliamo di riscossione qua quando ci confrontiamo con i comuni molte volte dico al sindaco sindaco crei l'ufficio porta a porta e mi guarda dice ma che vuol dire l'ufficio crei l'ufficio porta a porta perché se lei vuole gestire vuole amministrare deve andare a chiedere i soldi porta a porta sia con la sua struttura che magari rivolgendosi ad altre strutture oggi riscontriamo che molti comuni affidano all'esterno non più a riscossione Sicilia chiaro affidano all'esterno la riscossione vera e propria qui non parliamo di esigibilità ma dico qui mi rivolgo soltanto ai neofiti sull'argomento perché questo argomento è già chiaro che dico non penso che sindaco lei ha affidato già fatto bravo sindaco lui l'ha fatto chiaro perché il fondo credito dubbia di più esigibilità che noi troviamo in tre momenti di cui uno dei tre momenti quell'intermedio della salvaguardia ce lo siamo pure scordati essenzialmente visto la tempistica di approvazione dei bilanci essenzialmente dico lo vagliamo a bilancio e a rendiconto chiaro se noi non siamo bravi a riscuotere avremmo un fondo credito così elevato che dopo che scriviamo le entrate la prima posta che dobbiamo scrivere fondo credito dubbio edificio esigibilità che mi va a controbilanciare naturalmente riducendole la spendita del valore nominale delle entrate iscritte in bilancio entrata che già di per sé deve rispondere a un stressante criterio dell'attendibilità chiaro non ci sono più i gonfiaggi delle entrate che magari si realizzavano prima oggi c'è un criterio di attendibilità semplicemente nell'iscrizione del valore nominale dell'entrata quindi io sono nel mio bilancio di provisione devo iscrivere un'entrata attendibile è inutile che il sindaco mi chiama e dice ma vedi che puoi fare non posso fare niente l'entrata deve essere attendibile a quell'entrata che deve essere attendibile si controbilancia comunque un fondo credito dubbio edificio esegibilità sull'entrata stessa perché un fondo crediti perché mi va a verificare la mia capacità di riscossione di quell'entrata nei cinque anni precedenti datane una percentuale data essenzialmente dal rapporto tra incassato su accertato determino quello che è la mia capacità di riscossione per complemento accento la incapacità di riscossione la mia incapacità di riscossione con i coefficienti di abbattimento che sono in esaurimento come diceva il dottore Lipari stamattina al 2021 finisce quella gradualità che ci ha portati o che ci porterà dal 36% al 100% finendo questa gradualità data quella mia percentuale secca di incapacità a riscuotere la applico alla previsione di entrata la iscrivo nella parte spesa che significa questo detrattore della capacità di spesa del comune in sintesi il legislatore dice uno io ti vaglio singolarmente tu sei bravo vai avanti tu non sei bravo esci prima dal sistema numero uno numero due significa lo sai che il bilancio si gestisce in termini di cassa perché perché se io ti detraggo la capacità di spendita tu l'entrata devi ricercare di realizzarla in termini di incasso la spesa è bloccata in partenza vado ad invertire quel fenomeno diciamo diabolico di prima laddove mi scrivevo un'entrata che magari oso dire attendibile oso dire lasciamo stare quelle non attendibili iscrivo un'entrata attendibile ma che comunque in termini di realizzazione incasso vuole i suoi tempi mi iscrivo la spesa che state tranquilli in termini di realizzazione vuole i tempi sicuramente inferiore all'incasso dell'entrata andando a creare la sfasatura in termini di cassa in termini di anticipazione di liquidità e per quello che comporta anche in termini strutturali all'ente quindi quando diciamo in sintesi che il nostro bilancio è comunque un bilancio di cassa non è che stiamo andando a dire una cavolata effettivamente il nostro bilancio in termini sostanziali dobbiamo ragionare che deve essere un bilancio di cassa chiaro le entrate iscritte vanno accertate le entrate accertate devono essere realizzate in termini di incasso prima possibile non il fatto vabbè però le scriviamo poi io sindaco me ne vado e dopo tu vai a cercare chi è il contribuente gli mandi un avviso fra cinque anni io tanto non ci sono più che importanza ha non è così l'entrata va realizzata nel più breve tempo possibile sei bravo a farlo bene avrai una capacità di spendita maggiore i tuoi cittadini possono fruire di maggiori servizi non hai questa capacità io ti blocco io sono naturalmente tutte le limitazioni dei vincoli di spesa pubblica tu ne rispondi politicamente essenzialmente gli vai a dire che questa cosa non la possiamo fare questa non si può fare lì è il ragioniere che mi dice che non puoi fare niente lì è così lì è in quella maniera quindi il nostro fondo credit di esigibilità si origina nel bilancio di previsione e comunque viene congruito a rendiconto che significa viene congruito a rendiconto nel bilancio di previsione ricordo a me stesso che io ho le entrate di competenza non ho residui chiaro io prevedo le entrate a fronte di un'entrata che prevedo e non sto qui a ripetermi vado ad appostare in spesa il mio fondo credit su quell'entrata qualcuno durante l'anno va a fare una variazione di bilancio sapete che le variazioni si fanno quando va a fare una variazione porta nella proposta di variazione al bilancio maggiori entrate e qui ci sono le spese analisi fatto realmente accaduto o che accade normalmente uno il comune ci prova nel portare maggiore entrate e portare maggiori spese scusa ma il fondo credit dov'è? il fondo credit a rendiconto no a rendiconto tu stai scrivendo è come se sei a bilancio perché non è una variazione di spesa o una variazione di entrate è una variazione che metti maggiore entrate per mettere maggiori spese quindi sei a bilancio di previsione sei a bilancio di previsione essere al primo gennaio essere al 30 novembre non cambia niente non puoi spendere tanto quanto quanto iscrivi in entrata con la variazione chiaro? e qualcuno ci prova e quindi no quindi ti calcoli quello che è il fondo credit e metti il fondo credit nella variazione ah no ma non è così perché io posso garantire che questa maggiore entrata già l'ho incassata tutta e quindi e quindi l'ha incassata tutta e quindi il fondo credit è niente ma non è che ragione a singole poste il tuo ente che magari ha una percentuale di riscossione del 40% ancora si trova a colmare un 60% dei 5 anni precedenti e verosimilmente per alzare quella capacità di riscossione con questa tua diciamo attività che è sicuramente positiva servirà a colmare la capacità di la mancata capacità di riscossione degli anni precedenti quindi tu iscrivi l'entrata nella variazione con il fondo credit puoi essere anche al 30 novembre il fondo credit lo devi sicuramente applicare ancorché mi iscrivi e mi certifichi che quella entrata è già tutta incassata ci guardi stamattina hanno portato questi soldi li hanno portati i soldi non avevamo lo stanziamento nelle nelle entrate stiamo accertando perché l'accertamento lo faccio contestuale alla previsione variazione di bilancio no non è così non è così uno perché tu l'accertamento te lo puoi fare anche se non è previsto lo lasci così perché ti agevola quello che potrebbe il risultato finale caro ma se tu ti vuoi appostare la spesa sappi che devi passare dal torchio il torchio si chiama fondo crediti quindi non vale il fatto che il fondo crediti si passa dal primo gennaio bilancio e previsione al rendiconto assolutamente tu mi fai una variazione con maggiori entrate mi vai a mettere il fondo crediti e non vale manco il fatto che mi dici che quell'entrata oggetto di variazione è stata tutta incassata perché la logica del fondo crediti non è sulla posta e sto soltanto sintetizzando quello che ho detto prima ma riguarda la capacità dell'ente tutto addirittura come capacità storica apro qui un confronto con il dottore Lipari perché gli pongo questa cosa mi farebbe piacere se lui mi desse la risposta quando noi andiamo a stracciare i crediti anteriori a tre anni sapete il principio contabile mi dà la possibilità e io me ne beneficio anche in quelli che sono i parametri di deficitarietà perché diciamo rinfrescando la mia gestione dei residui ne vado a beneficiare nel parametro giusto che alcune volte è anche lì un parametro che mi fa passare da 4 a 5 e quindi si creano tutta una serie di problematiche io cosa faccio io ho la possibilità la facoltà di stralciare i residui attivi anteriori a tre anni e reiscriverli nel conto del patrimonio quando si parla di stralciare i crediti non significa cancellare i crediti chiaro attenzione potrebbe sembrare la stessa cosa ma significa essenzialmente non dico spostarli perché già lo erano in tutte e due nella finanziaria e nell'economico patrimoniale perché lì si chiamavano crediti a tutti gli effetti qua si chiamano residui attivi ma significa stralciarli stralciarli dalla finanziaria per mantenerli nel conto del patrimonio non significa non devo più assolutamente determinarmi sul riaccertamento di quel residuo allora vi dico uno tutti gli applicativi non prevedono alla stampa dei residui naturalmente perché non sono più residui sono crediti ma non sono residui non prevedono l'elenco dei residui stralciati supponiamo l'anno scorso d'anni fa e quant'altro guardate che su quei residui o su quei crediti a dir meglio bisogna effettuare il riaccertamento perché la responsabilità soprattutto per eventuale prescrizione del titolo non viene meno chiaro? se io vado a cancellare a stralciare un residuo anteriore a tre anni guardate che ancora siamo nella piena vigenza del titolo chiaro? perché normalmente una prescrizione come minima ha cinque anni come minima quindi non significa piglia tutti questi creditori e gli dici grazie a tutti abbiamo trasmesso non c'è bisogno di portare i soldi non significa questo però esce dalle procedure attenzione esce dalle procedure finanziarie perché comunque se è tributo rimane in quello che sono i tributi e quant'altro allora il problema il problema l'aggancio contabile sapete dove sta che qualora una di queste posizioni di residui stralciati venga ad assolvere quindi a pagare io ho difficoltà di contabilizzare chiaro? dove lo contabilizziamo normalmente? quindi va messo sicuramente in conto residui quindi comunque non è una nuova entrata cioè quindi non mi agevole lo vado a mettere in conto residui però in conto residui mi manca la posizione attenzione in conto residui mi manca la posizione perché la posizione stralciata comunque dalla finanziaria non esiste più quindi in conto residui comunque la posizione mi viene a mancare chiaro? quindi alla fine io potrei avere per assurdo avere residui che mi sono rimasti per cento residui incassati per cento ma ancora avere posizioni aperte di residui chiaro? e qui c'è un problema di sistema contabile perché ancora gli applicativi non girano bene per poter in un certo senso agevolare l'ente a mantenere questo doppio elenco perché mi viene a mancare i residui sono un elenco di posizione a credito quando io l'incasso il residuo non esiste più ma se incassi i soldi di uno e li voglio inserire a nome di un altro come faccio? chiaro comunque la regola è quella che l'incasso di un residuo stralciato va contabilizzato in conto residui e non certo mi costituisce nuova entrata di competenza chiaro seppure in termini di incasso assolutamente perché la logica del principio è quella di chiudere via via tutta la gestione dei residui più remoti sono i residui più ci sono percorsi che tendono a levarli a farli scomparire dalla contabilità attenzione alla responsabilità l'averlo cancellato non viene meno e attenzione al fatto che non si porta con sé la memoria non si porta con sé la memoria e si rischia di non riaccertare più quel credito che appunto non si chiama più residuo chiaro? quindi attenzione a questi aspetti andate a vedere revisori andate a vedere nel tempo anche perché ad oggi dovremmo andare a vedere i rendiconti 15, 16, 17 essenzialmente è da lì che è avvenuto lo stralcio del residuo anteriore a tre anni andate a vedere a chiedere essenzialmente se nel tempo sono stati stralciati e magari non se ne è data menzione in quello che è la nota integrativa come contabilità economico-patrimoniale perché la troveremmo solo lì o nella relazione nella relazione al rendiconto perché nella relazione al rendiconto è fatto obbligo di indicare l'elenco dei residui stracciati anteriore a tre anni prego a residui vanno imputati a residui non costituiscono non esiste più bravissima certo quindi io lo devo imputare devo creare un nuovo accertamento allora praticamente sì praticamente sì l'importante l'importante è che l'accertamento che crea lo crea a residui l'importante è che lo crea a residui chiaro io ho sollevato questa richiesta ad alcune software house ho detto cercate di creare una funzione che mi permetta di mantenere di mantenere un elenco di residui stracciati in modo tale che io ogni anno so che tra gli elenchi che devo estrarre c'è l'elenco di residui stracciati suddivisi per anno come c'è nella funzione della stampa del residuo attivo o passivo quello che sia suddivisi per anno quindi cercate di essenzialmente di creare un elenco perché se non viene correttamente evidenziato nelle relazioni relazioni che naturalmente per andarla a riprendere bisogna andarla a riprendere anche da un punto di vista cartaceo chiaro non è una funzione di programma essenzialmente quindi non essendo una funzione di programma io ho certezze ho seri dubbi che questo dato possa essere mantenuto nel tempo in termini di visione a un responsabile che magari cambia perché non è che poi possa affidare la memoria storica del responsabile e quindi poi verosimilmente tutto ricadrebbe nel fatto che non vi siete lette le relazioni degli anni precedenti ma se il tempo passa ho difficoltà a leggere le relazioni anche perché sulle relazioni sulle relazioni addirittura poi dovrebbe essere indicata la movimentazione di quel residuo non soltanto lo stralcio del residuo chiaro? quindi se io nel 2018 residui anteriore a tre anni che già ho cancellato prima oggi sono stati portati all'incasso in tutto e in parte io mi dovrei aggiornare quella posizione non mantenere un elenco che è asettico per i fatti suoi che tutto mi dice e nulla mi dice chiaro? perché a distanza di tempo io non ho più cognizione allora tutto questo dovrebbe essere a mio parere regolamentato è naturalmente supportato anche dalle procedure chiaro? perché altrimenti mi perdono nel giro di poco tempo forse forse dico io qualcuno vuole anche questo che nel tempo si perdano è giusto forse qualcuno vuole l'obbligo visto che non li puoi seguire è un modo per liberarci di questi residui senza atto perché poi alla fine se ne vanno senza atto l'atto di nel mucchio degli atti del consuntivo o a declinare da un recente passato da quella che è stato il riaccertamento straordinario del residuo dove c'è stata la pulizia e lì diciamo è passato in cavalleria quelle che sono le responsabilità degli aspetti elusivi degli aspetti elusivi di vincoli di finanza pubblica ante 2015 essenzialmente è questo il fatto a che siamo sempre? buh non lo so il presidente se ne andò il tempo il tempo non ci aiuta perché mi avevano detto prima l'una sono l'una e venti gli argomenti sono sempre tanti sono sempre tanti e c'era tutto una serie di argomenti da dire vuol dire che ci organizzeremo meglio in termini di tempistica in puntate successive grazie a voi comunque grazie a voi grazie a voi